Non c'è lunedì senza dolce, non c'è lunedì senza Natalia Cattelani. L'abile cuoca addolcisce quest'inizio settimana con una delle sue creazioni, semplici, golose e coloratissime. Oggi, un dolcetto senza cottura. Prepariamo il riso soffiato ai due cioccolati. Ingredienti strato nero 100 g cioccolato fondente, 50 g burro, 10 g miele, 100 g biscotti al cioccolato strato chiaro 40 g riso soffiato, 100 g cioccolato bianco Copertura 100 g cioccolato bianco, buccia di lime, corallini colorati Procedimento sciogliamo a bagno maria il cioccolato fondente insieme al burro e ad un cucchiaino di miele. In un'altra ciotola, sciogliamo il cioccolato bianco a bagno maria. Con un coltello, tritiamo grossolanamente i biscotti al cacao ripieni, tipo oreo o ringo. Aggiungiamo i biscotti tritati al cioccolato fondente fuso per il burro ed il miele. Mescoliamo strato nero. Copriamo una teglia o pirò fila alta con della carta forno bagnata e strizzata. Versiamo all'interno il cioccolato fondente con i biscotti. Distribuiamo bene e mettiamo in frigorifero ad indurire. Mescoliamo al cioccolato bianco fuso il riso soffiato e la buccia di limone o lime grattugiata a strato bianco. Versiamo sullo strato nero ben duro ed appiattiamo con un cucchiaio. Facciamo indurire in frigorifero. Sciogliamo l'altra parte dalla 500 alla 1 cioccolato bianco della copertura a bagno maria. Lo spalmiamo sopra lo strato bianco indurito e spolveriamo con gli zuccherini colorati. Facciamo indurire ancora in frigorifero. Serviamo a cubettoni.